È ora di vedere che cosa c'è dentro. Ma lo ammetto, ho ricevuto un po' troppi commenti e non mi sono proprio saputa decidere. Quindi vi lascio tre alternative. Forza, scegli su... La 1, la 2 o la 3? Questo video non può mica durare per sempre. Datti una mossa e scegli. Io ti avevo avvisato.